Musica Allora anche nel comune di Carlopoli si realizza questa giornata di festa nazionale siamo contenti e onorati di aver ospitato questa manifestazione inizialmente prevista per la salvazione di Corazzo ma per l'incertezza del tempo e le condizioni climatiche sta spostata qui nel centro abitato è una manifestazione molto bella, vivace e colorata alla quale stanno partecipando diverse componenti dal sociale al volontariato con il patrocino della missione comune di Carlopoli sicuramente sarà un primo passo per poi replicare altre future edizioni grazie a tutti